Dottor Oriani, il perché della vostra partecipazione a Teco 2015 e in che modo può diventare un punto di lavoro proprio per voi da qui ai prossimi mesi? La partecipazione a Teco è ovviamente perché è un evento molto importante che raccoglie molte aziende in settori in cui noi abbiamo anche, credo, dei casi di successo. Quindi crediamo che sia importante essere presenti, a parte un po' anche per farci conoscere, ma soprattutto per cercare di dialogare con le aziende su quello che secondo noi dovranno essere le tematiche organizzative e prestazionali del prossimo futuro, sistemi organizzativi, sistemi tecnologici. Tenete presente che noi facciamo parte di una società di consulenza internazionale, quindi probabilmente abbiamo anche un po' un accesso privilegiato a vedere i nuovi trend, le nuove evoluzioni. Tant'è vero che ad esempio abbiamo fatto l'intervento sull'industria 4.0 che è un po' una nuova frontiera, quindi poterci confrontare su quello che secondo noi dovrà essere l'organizzazione di fabbrica, ma non solo, delle aziende che sono qua presenti, deteniamoci una cosa importante, sicuramente per noi, speriamo anche per loro. Quali sono i passi che voi individuate più interessanti, più importanti che l'industria italiana sta facendo in questo momento verso l'industria 4.0, verso questa rivoluzione industriale? Purtroppo devo dire che in questo momento non è che si stiano facendo grossissimi passi sul campo, per fortuna sta cominciando a maturare un certo interesse, stanno fiorendo ricerche, indagini fatte da associazioni industriali, dell'università e quant'altro, però applicazioni concrete non ce ne sono ancora molte. Devo dire che siamo forse un pochino in ritardo, ma comunque in buona compagnia, perché anche dalla ricerca che noi stessi abbiamo fatto in Germania l'anno scorso risulta che il livello di introduzione di questi sistemi è ancora abbastanza primordiale. Ci sono degli strumenti che sono storici, come gli AGV, che sono dei sistemi di trasporto teleguidati, i codici a barcode per gestire i magazzini, che sono ben noti e utilizzati. Ma l'industria 4.0 dovrebbe essere il mettere in rete tutte queste cose e farle lavorare tra loro, infatti si parla di internet delle cose, quindi macchine, attrezzature, impianti che dialogano tra di loro via internet e in un certa misura si auto-organizzano la produzione. Quindi un livello decisamente diverso da avere semplicemente un AGV. Su questo di grossissime applicazioni non ce ne sono ancora, ci sono sporadiche sperimentazioni qua e là, ma ripeto, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Ecco, dottor Riani, le aziende italiane più attente all'innovazione e alla tecnologia, in che modo stanno cambiando anche il modo di organizzare il lavoro? Dunque, secondo noi ci sono una serie di aziende italiane che rappresentano veramente un'eccellenza, perché sono competitive a livello internazionale, hanno una forte competenza tecnologica e un forte livello di internazionalizzazione. Stanno lavorando molto sulla loro organizzazione, non soltanto dal punto di vista tecnologico, riteniamo che il problema non sia soltanto quello di avere l'ultima macchina più performante, più avanzata, ma quella di riuscire a far lavorare bene le persone tra di loro, secondo la filosofia che noi sosteniamo della cosiddetta Lean Enterprise, che vuol dire ottimizzare i processi, non tecnologici, processi organizzativi, vuol dire anche, per esempio, lavorare in modo diverso sul processo di innovazione, che non deve essere l'idea dell'imprenditore singolo, ma un processo sociale che metta assieme tutte le competenze aziendali. Ecco, credo che tra le aziende con cui lavoriamo, quelle che stanno dimostrando la maggior capacità di prestazione e di competitività a livello internazionale, sono quelle che stanno applicando queste logiche e quindi valorizzino la risorsa umana per aumentare la capacità del sistema di funzionare. Questo è collegato anche un po' al nostro punto di forza che sta, direi, nella personalizzazione. Mentre molte multinazionali straniere sono molto efficienti, ma sui prodotti sostanzialmente standardizzati, le aziende italiane sono capaci di dare quella soluzione unica che il cliente chiede. Quindi siamo molto bravi su questo aspetto creativo e di flessibilità, un po' più deboli sugli altri. Comunque ci sono queste eccellenze. Come dicevo, anche se noi siamo portatori di questo lean thinking, che è un po' un pensiero noioso, perché va sempre a vedere quello che non funziona invece che quello che va bene. Quello che va bene, va bene. Quello che non funziona è un problema, però non deve essere una cosa nascosta, deve essere una cosa su cui lavorare per migliorare. Ecco, questo tema che forse, siccome prima abbiamo detto che cosa le aziende italiane sanno fare, forse quello che sanno fare un pochino meno, alcune, è quello di mettersi in discussione. Non si mette il problema in un angolo, si tende a nasconderlo, non si vuole criticarsi e sicuramente in un contesto internazionale, competizione internazionale, questo vuol dire non sfruttare il problema che alla fine è un'opportunità di miglioramento. C'è ancora lavoro dunque. Grazie, in tante buon lavoro anche a voi. Grazie a lei. Grazie. Salve.